Una bella iniziativa stasera anche perché c'è modo di parlare dei premi che il pecorino ha ricevuto. Sì, una bella iniziativa che riguarda tutto il territorio, non solo il prodotto in quanto incellente, dove è stato premiato a livello internazionale a questo concorso che si svolge in Ingliterra e che vede la sua 125esima edizione. Quindi si partecipa con i nostri prodotti, si partecipa e si fa sostanzialmente l'amplain perché si ottengono tre premi, quale il pecorino crotonese DOP, quale miglior formaggio stagionato in Italia, quindi accanto ai giganti dei formaggi, quale il grana padano, quale il parmigiano reggiano che hanno fatto la storia dei formaggi d'Italia nel mondo. Quindi un podio altissimo per il pecorino crotonese e per l'intero territorio. Certo, per l'intero territorio tenendo conto che questa è l'altra faccia della Calabria, la Calabria in cui c'è la produzione ma soprattutto c'è la bellezza del nostro territorio. Certamente, perché questa è la Calabria bella, la Calabria dinamica, la Calabria che si adopera e porta i propri prodotti, le proprie eccellenze al di là dei confini regionali e al di là dei confini nazionali. Quindi una Calabria innovativa, una Calabria che è in grado di competere e di non temere nessuno. In tutto questo ci sono i giovani che hanno voglia di rimanere in Calabria e magari anche di portare avanti le aziende familiari di questi prodotti? Io ti ringrazio per questa domanda perché è il senso del nostro lavoro. Perché noi da quando ci stiamo occupando di far emergere il pecorino crotonese, noi di fatti questa vittoria la dobbiamo proprio agli allevatori, agli agricoltori. perché è grazie a loro che sono in grado di conferire un latte di alta qualità e di conseguenza viene un formaggio di alta qualità. Quindi c'è proprio un vero cambio generazionale all'interno di questa cosa ed io sono sempre più convinto che lo sviluppo del nostro territorio avviene riscoprendo ciò che noi abbiamo, riscoprendo le nostre identità, riscoprendo la nostra storia. Solo così noi possiamo veramente fare un salto di qualità e come dicevo prima, se ci mettiamo con la capabilità che ci contraddistingue noi siamo in grado di portare a casa da calabresi risultati eccellenti. Non dobbiamo dimenticare che l'agricoltura è uno dei settori fondamentali della nostra economia. È un periodo di grande difficoltà. Però diciamo che questi momenti servono anche a tirare su di morale e a dire andiamo avanti. Questo è uno strumento che ci gratifica tantissimo perché come si dice la speranza è sempre l'ultima a morire ed è come dicevo prima da buon calabrese e da buon crotonesi soprattutto perché Crotone si basa diciamo sull'agricoltura, il pil di Crotone sostanzialmente è dato da questa agricoltura quindi siamo in grado come dire di resistere con difficoltà ma guardiamo sempre avanti con la speranza che prima o dopo ce la faremo. Non si parlerà soltanto del pecorino questa sera? No, questa sera si parlerà del pecorino, si parlerà del territorio, si parlerà di questo progetto di promozione che ci sta consentendo grazie al finanziamento che la Regione Calabria ha voluto dare al Consorzio di tutela ci sta consentendo di promuovere il pecorino a livello internazionale sostanzialmente stiamo riportando alla ribalta la nostra storia, la nostra identità e il nostro territorio perché tra il prodotto e il territorio esiste un connubio indissolubile più forte è il territorio, più forte è l'apprezzamento del prodotto da parte di chi lo conosce perché il prodotto racconta il territorio stesso.